Siamo oggi a Frosinone in camera di commercio per andare a presentare l'agenda digitale regionale 2226 proprio alle attività produttive che sono uno dei tre diciamo ambiti di destinazione naturale della nostra agenda. Presenteremo i cinque assi fondamentali su cui si dipana l'agenda che sono le infrastrutture abilitanti, la cyber security, la formazione, l'accessibilità e il design dei servizi e lo faremo insieme alle attività produttive che costituiscono ovviamente uno dei destinatari naturali e anche uno dei cointributori attraverso il procedimento di consultazione pubblica che abbiamo attivato proprio sui temi dell'agenda digitale. Partiamo dai territori per costruire Lazio del domani. Sono molto contento e onorato oggi di ricevere qui l'assessore alla transizione ecologica e la digitalizzazione, la dottoressa Roberta Lombardi, Regione Lazio. I miei rapporti con la regione e con l'ente camerale stanno funzionando molto bene, stiamo lavorando anche su progetti di cofinanziamento per esempio con l'assessorato al lavoro, con il dottore Di Bernardino. Credo che questa sia anche la strada giusta, insomma mettere in campo sinergia a un momento di post pandemia, come quello che stanno vivendo le imprese in questo momento, quindi di grande difficoltà. Il tema della digitalizzazione delle imprese è un tema estremamente rilevante e io leggevo stamattina proprio di una ricerca in cui l'Italia ha il ventesimo posto tra paesi europei in termini di digitalizzazione delle nostre imprese, quindi è un tema su cui dobbiamo spingere tantissimo, considerando anche il 27% delle risorse PNRR sono proprio destinate alla digitalizzazione delle imprese. È un tema importante, è un tema che riscuote una grande rilevanza in questo momento, è il nostro ente camerale tra l'altro ha messo in campo attraverso i PID che sono gli strumenti che l'ente camerale di cui dispone circa 2 milioni e mezzo di euro. La regione ne ha fatto altrettanto, mi sembra che ha messo in campo circa 5 milioni di euro sul tema della digitalizzazione delle imprese, se unissimo le forze riusciremo sicuramente a fare tanto di più e andare direttamente al cuore delle imprese. Il sistema camerale ha nel suo DNA le imprese, le conosciamo benissimo, i nostri bandi stanno funzionando e questi rapporti di collaborazione possono solo far del bene, soprattutto in questo momento e quindi siamo molto, molto, molto contenti. Grazie.